Ciao a tutti ragazzi, ho fatto la sfida della creazione rosa delle nazionalità miste e ora andremo ad aprire il primo pacchetto che è un pacchetto di qualità giocatori ora prego, c'è una caverina andiamo ad aprire è top player, attenzione, Francia, cdc oh mio dio, cante, cante, non ci credo, cante incredibile, cante ragazzi, cante incredibile incredibile, primo pacchetto, cante primo pacchetto, il più scarso, trovo cante attenzione incredibile, cante 87 cante 87 cante 87 e ora ci rivediamo al prossimo pacchetto siamo tornati con il prossimo pacchetto della sfida creazione rosa di sei, non mi sbaglio e ora andiamo ad aprire il nostro pacchetto, il primo pacchetto ora andiamo ad aprire il pacchetto, ora tendo non è proprio a patente non è proprio a patente non è proprio a patente, c'è però sapacosa che è ci sei leccato mamma mia il secondo pacchetto schifosissimo ma almeno al primo abbiamo trovato un golo cante tra poco ci rivedremo nel prossimo pacchetto siamo tornati con il prossimo pacchetto delle sfide creazioni rosa ne servono otto ora andremo ad aprire l'altro pacchetto siamo stati fortunati solo il primo con quente all'altro a zappa costa proprio pacchetto giocatori oro prima prime ma non ci credo scoliamo oggi raga roben 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 oh mio dio roben 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 al prossimo pacchetto non ci credo roben vediamo gli altri ma roben incredibile roben al prossimo oggi aspetto prima di finire siamo arrivati agli ultimi due pacchetti finora abbiamo scolato con roben roben e cantè ma zappa costa proprio ci sono rimasto malissimo ora andiamo a aprire il pacchetto l'altro pacchetto che è il miglior pacchetto apriamo a aprire il miglior pacchetto non si è stato libero attenzione Brasile si dirà Donaia Donaia